lunedì 19 dicembre 2022 si respira già un clima festivo un clima natalizio e lo si vede anche dai dagli eventi dei dati di questa settimana perché dopo la buffata delle banche centrali della scorsa settimana con le riunioni di politica monetaria le ultime del 2022 nei prossimi giorni dovremo seguire sarà importante seguire i discorsi di alcuni membri bce oggi e domani per capire per monitorare se il dato se scusate se il tono rimarrà ancora quello da falco rimanendo in tema di banche centrali vi segnalo che domani martedì è in programma la riunione della bank of japan che chiuderà un po il cerchio delle principali banche centrali non sono attese modifiche alla politica monetaria ma sarà comunque interessante un appuntamento interessante anche perché negli ultimi giorni sono emerse delle indiscrezioni su un possibile cambiamento nella strategia quindi nella politica monetaria il prossimo anno che potrebbe diventare più restrittiva si ricorda anche vi ricordo anche che il governatore curoda terminerà il suo mandato la prossima primavera ad aprile e rimanendo sempre in tema di banche centrali nei prossimi giorni sono previste anche le ultime riunioni gli ultimi meeting del 2022 di alcune banche centrali emergenti tra cui vi segnalo quella turca giovedì che dovrebbe comunque mantenere i tassi suoi tassi di interesse fermi al nove per cento dalle banche centrali andiamo a vedere quelli che saranno i dati principali dei prossimi giorni dati macro si inizierà già oggi con l'indice con l'indice ifo si esatto l'indice ifo che misura la fiducia degli imprenditori tedeschi e che attesa in accelerazione nonostante le previsioni sull'economia tedesca non siano delle più rose infatti la bundesbank ha previsto una contrazione dell'economia tedesca fino a circa metà del 2023 quindi una ripresa della germania a partire dalla seconda metà del prossimo anno volgiamo lo sguardo poi oltreoceano perché qui mercoledì uscirà poi il dato sulla fiducia dei consumatori di dicembre poi nel corso della settimana ci saranno diversi dati sul settore immobiliare per poi chiudere venerdì con i dati sulla sulla spesa e i redditi delle famiglie relativa al mese di novembre che dovrebbero mostrare una crescita rispetto al mese precedente in ultimo vi ricordo che oggi ci sarà tra gli appuntamenti ci sarà un nuovo incontro un nuovo meeting dei ministri dell'energia dell'unione europea che si confronteranno nuovamente sulla questione della crisi energetica in europa qui ovviamente il diciamo così l'intervento clou sarà quello relativo al price cap ma che potrebbe poi sbloccare tutta una serie di altri interventi e misure proprio per far fronte a questa situazione che colpisce soprattutto l'europa quindi questi i principali appuntamenti che ci attendono in questa settimana ma ora entriamo nel vivo della nostra discussione del nostro eh della nostra puntata e il nostro sguardo sui mercati finanziari allora vi presento l'ospite che ci accompagnerà in questa puntata in collegamento con noi peter botucciarov eh vice president global fixed income di tiro price buongiorno peter e benvenuto buongiorno valemia buongiorno a tutti ascoltatori allora peter innanzitutto visto che è anche l'ultima puntata di questo duemila e ventidue eh facciamo un po' il punto della situazione eh sui mercati sugli investimenti di quest'anno che è stato particolarmente complesso quali conclusioni possiamo trarre cosa ci portiamo a casa quali se vogliamo dire insegnamenti ci ha dato questo duemila e ventidue sì grazie Valeria ah infatti è stato un anno abbastanza difficile dal punto di vista di investimenti direi nella mia carriera di più di vent'anni sui mercati forse duemila e ventidue rimarrà come uno dei tre quattro anni più difficili eh dal punto di vista di posizionamento di punto di vista di asset allocation eh quindi quando guardo indietro e vedo performance di diversi fondi di diversi strategie quasi l'unici due tre che hanno fatto un po' meno male o un po' più positivo sono stati strategie nel mercato obbligazionario che hanno hanno fatto un active management di duration potevano essere lunghi o corti durante l'anno quasi come un hedge fund o strategie azionarie che stanno ovviamente più value che growth e molto selezionati select select nel loro eh posizionamento nel mercato azionario quindi un anno che ci ha portato a vedere diversi rischi tutti collegati tra di loro tra rischi geopolitici tra rischi finanziari ovviamente prezzi delle materie prime tutto questo è influenzato come mercato azionario così anche mercato obbligazionario come sappiamo tutti eh nel mondo della finanza. Esatto Peter è stato decisamente un anno eh sfidante per così dire anche appunto per i gestori e tutti i vari strumenti eh finanziari. Andiamo più nello specifico Peter perché siamo reduci da una buffata di banche centrali in particolare Fed e BCE. Allora ehm cosa possiamo anche qui eh cosa è emerso da queste ultime riunioni soprattutto anche in prospettiva no perché poi le decisioni e gli annunci di politica monetaria in sé erano erano attesi però comunque sono emerse dalle conferenze a stampa dalle stime che sono state snocciolate in occasione di questi meeting degli spunti di riflessione eh importanti. Infatti molto brevemente su questa domanda ovviamente tutti sappiamo che le banche principali continuano hanno proceduto con la normalizzazione della politica monetaria. Tutti e tre banche principali la Federal Reserve, BCE e Bank of England hanno alzato tassi di interesse con 50 punti base. Tutto scontato dai mercati in linea con le aspettative. La cosa che ovviamente non è stata scontata era la divergenza che è riemersa e è diventata anche più chiara tra diverse banche centrali. Possiamo definire più o meno così. La BCE è stata ovviamente con un tono di falco molto più forte, la Moschokish, banca centrale, mentre Bank of England England già sta indicando fine dal processo, sta avvicinando alla fine del ciclo dei rialzi, indicando un'inflazione che è al pic e quindi una posizione meno hawkish, più positiva per mercato obbligazionario. Mentre la Federal Reserve, poi la discutiamo un po' più in dettaglio, è rimasta più o meno in linea con le aspettative. Proseguito con un minore velocità dei rialzi, ma indicando una posizione di patiently hawkish monetary policy. Esatto. Secondo te Peter, questo discorso dell'inflazione delle banche centrali che ha sicuramente dominato questo 2022, ci accompagnerà anche nel 2023? Ma soprattutto in che modo? Perché se nel 2022 questo si guardava al picco dell'inflazione, alla fase restrittiva delle banche centrali nel 2023, come si evolverà questo tema? Se effettivamente, come immagino, ci accompagnerà almeno per la prima parte? Io direi, infatti come dici Valeria, le banche centrali rimarranno al centro di attenzione nel 2023. Dobbiamo chiederci perché. Almeno ci sono tre risposte. La prima, l'andamento di inflazione rimane incerto. La seconda, rischi di recessione. Quando sarà, se ci sarà, quando profonda potrebbe essere recessione. La terza considerazione è ovviamente utili aziendali che sono collegati con la potenziale recessione. E quindi questi tre elementi sono parte della cosiddetta reaction function delle banche centrali. Come il risultato? ovviamente vorrei dire subito una cosa positiva. Ci stiamo avvicinando alla fine del ciclo dei rialzi. Questa è una, ovviamente tutti li aspettiamo, magari finirà questo ciclo nel primo trimestre di questo anno al massimo, secondo trimestre di 2023. E quindi da qui dobbiamo cercare a capire come si comporterà Fed, come si comporteranno le altre banche centrali. E da qui, da questo reaction function, io vorrei indicare due o tre punti di considerazione. Il primo è ovviamente Fed è venuto con un terminal rate più alto. Sono sicuro che tutti seguono the Fed dots che già indicano in 2024 100 basis points rate cuts fino a livello di 4,425. Però per 2023 ancora rimaniamo in una situazione di Fed dots che indicano terminal rate al 5,525%. La domanda qui è, ma mercati ancora ovviamente non credono al 100% che Fed avrà terminal rate sopra 5% e non crede ancora che Fed non farà tali dei tassi di interesse nel prossimo anno. Se credeva Treasury yields, dove li vediamo adesso, sono troppo bassi per dove potrebbe andare Federal fund rates. Quindi c'è questa incertezza tra la politica monetaria indicata dal Federal Reserve e il mercato che non crede assolutamente. Quindi come possiamo pensare per questo punto di vista? Ancora mi riferisco di questi tre elementi che non sappiamo neanche noi e anche Federal Reserve non sa quando ci sarà la recessione, se ci sarà, quando profonda ci sarà e come andrà l'inflazione. Ovviamente sappiamo che si abbasserà in modo sostenibile o magari avremo un rischio di inflazione più alta. Adesso mi riferisco dal punto di vista di un banchiere centrale. Come sappiamo la politica monetaria funziona con un time lag di nove mesi, diciamo on average, in media. Quindi se guardiamo dal punto di vista di un banchiere centrale la politica monetaria dovrebbe rimanere stabile, quindi FED dovrebbe mantenere il tasso di interesse almeno nove mesi, otto, nove mesi dopo l'ultimo rialzo prima di abbassare. Quindi da questo punto di vista io direi Federal Reserve rimarrà a 5%, supponiamo terminal rate, fino alla fine di 23 e primi tali in primo trimestre di 24. Però ovviamente ci sono incertezze, ci sono incertezze soprattutto per la recessione, se venirà una recessione più profonda e già qui vado a dire l'ultima cosa, nel Federal Dots da 2024 già Federal Reserve fa cosiddetto insurance rate cuts che potrebbero andare un po' più avanti, possiamo potenzialmente vedere rate cuts nella fine di 23. Però come base case scenario probabilità più alta, i primi rate cuts in Q1 2024. E Peter, questo per quanto riguarda la Fed, per quanto riguarda la BCE, nel senso anche qui ovviamente la stretta monetaria proseguirà nel 2023, anche qui c'è un rischio di recessione e allora in questo caso si potrà vedere un taglio dei tassi già nel 2023 o sarà comunque anche come nel caso della Fed rimandato al 2024, secondo te? Quindi secondo me ancora riferendo dal passato, normalmente Federal Reserve si muove per prima, come nel periodo di alzare tassi di interesse così anche abbassarli. Ovviamente BCE è venuta molto più hawkish, i mercati ci aspettavano, abbiamo visto cosa è successo con i rendimenti di bonds, di BTP, quindi questa diversa velocità e terminal rate in Europa che potrebbe essere più alto avrà implicazioni per investimenti. Io aspetterei che prima si muove il FET con un rate cut come indicato all'inizio di 2024, magari se la recessione è più seria anche un insurance rate cut alla fine dell'anno prossimo e dopo vedremo anche la banca europea che si muoverà qualche mese più tardi. Chiaro, chiarissimo. Intanto Peter, sempre sulla questione delle banche centrali è arrivata una domanda che volevo condividere con te e chiedono, oltre ai tassi più elevati, il mercato sta scontando correttamente il quantitative tightening, quindi la riduzione del bilancio? Su questo aspetto in Europa dobbiamo aspettarci sorprese negative? Ecco, questa è una domanda molto importante, perché questo viene come una domanda più generale, come si può dire, al di là della politica monetaria ci sono altri rischi variabili che dobbiamo prendere in considerazione e ci sono 5 o 6 che dobbiamo assolutamente pensare. Sono più o meno bilanciati, però dal punto di vista del rischio, se è upside o downside risk, direi che downside risk forse prevalgano. La domanda che viene dai nostri colleghi è ovviamente, quantitative tightening ovviamente non sappiamo precisamente come funzionerà e dipende tanto se le banche centrali lasciano che bond che tengono nei loro bilanci scadano o avremo un quantitative tightening, cosiddetto actively managed bilanci nel senso di vendere anche questi bonds che sono già nel bilancio ma non vanno per scadere. Se supponiamo una situazione quando le banche centrali sono cauti e riducono quantitative tightening, usano quantitative tightening e riducono i loro bilanci solo per lasciare bond per scadenza, in questo caso non aspetterei una sorpresa su bond, su BTP e altri mercati obbligazionali. Ovviamente se abbiamo un active quantitative tightening e le banche centrali riducono actively il bilancio, in questo caso possiamo stare attenti a duration. Io vado indietro non solo quantitative tightening, è una incognita che dobbiamo pensare. Mi ricordo la volta scorsa Valeria abbiamo parlato anche da questa divergenza tra le politiche monetarie e fiscali, una politica monetaria più restrittiva a politiche fiscali più espansive però per ragioni molto ovvie, che siamo in un quadro economico molto complesso, difficile, quindi politica fiscale deve a quanto punto sostenere le imprese, le famiglie e quindi diventa una politica fiscale che non è in linea, non è pari passo con la politica monetaria. Il risultato è che, normalmente il risultato è che abbiamo un'inflazione probabilmente più alta e più sostenuta in tempo, non dico a questi livelli 10% in Europa ma 5-6 e le politiche monetarie rimangono più costretti e devono rimanere più restrittivi per più lungo tempo. Quindi, dal punto di vista ancora delle banche centrali, forse vediamo un periodo, già siamo alla fine, questa è una notizia buona dal punto di vista di investimenti, che siamo alla fine del ciclo dei rialzi, la domanda principale è anche se siamo alla fine e il fine del ciclo è fine di marzo, aprile, per quando lungo le banche centrali manterranno politica monetaria restrittiva? Esatto, Peter, facendo un discorso più ampio, al di là della politica monetaria, quali altri temi incognite dobbiamo aspettarci perché nel prossimo anno c'è il rischio recessione che incombe? Quali altri temi dovremmo seguire? Quindi, al di là della politica monetaria, questa divergenza tra politica monetaria e fiscale è da tenere in considerazione. Più la politica fiscale è espansiva, per più lungo le banche centrali in un paese, certo paese devono tenere politica monetaria più restrittiva per più lungo tempo. Questo è considerazione 1. Considerazione 2, utili aziendali. Ovviamente questo sarà un ciclo importante da seguire. Dal punto di vista di disoccupazione non dobbiamo aspettare utili aziendali a cadere drammaticamente. Dal punto di vista, ovviamente, del consumo, vedremo molto probabilmente utili aziendali scendere verso una situazione che indica potenziale recessione. Più probabile in Europa, meno probabile e meglio estensa negli Stati Uniti. Altri considerazioni che dobbiamo pensare anche. Come hai menzionato già in Giappone, la banca centrale potrebbe abbandonare la politica di health curve control. Questa sarà un'altra considerazione. Tensioni geopolitiche rimangono, ma non solo così a Ucraina, ma abbiamo visto incertezze in Sudafrica con il Presidente. Abbiamo elezioni molto importanti in Turchia che possono cambiare per positivo o possono cambiare anche per negativo e ovviamente Cina sempre rimane nel centro di attenzione. Adesso ultimamente in Cina si vede un po' più upside risk dal punto di vista economico, cosiddetto economic reopening, fine di zero Covid policies, quindi comincia a vedersi qualcosa più positivo al corizzonte e ovviamente la banca centrale continua ad intervenire e sostenere la crescita. dal lato opposto abbiamo il rischio, ma questo Covid policies magari avremo un reversal delle ultime due o tre settimane come abbiamo visto. Ho la volatilità della valuta, anche questo, ho uscita di investimenti. Quindi in bilancio Cina rimane in un quadro complesso, dobbiamo tenerlo in considerazione. Io direi che dobbiamo aspettare una crescita di 4,5-5% che non è 10, più non è 8, però 4-5% non è male per il mondo e il rischio di recensione rimane più alto, ovviamente in Europa meno in Stati Uniti e Asia mantenerà un aumento abbastanza positivo, come dal punto di vista di crescita e così anche inflazione. Chiaro Peter, di tutte queste tematiche, queste incognite, al di là politica monetaria, recessione, politica Covid, utili societari e tensioni, tutto quello che c'è elencato, è già tutto scontato dai mercati o effettivamente manca qualcosa e deve essere ancora scontato qualcosa? Sì, ovviamente dobbiamo scontare soprattutto utili aziendali, non sappiamo dove vanno e come ho menzionato prima, l'andamento di inflazione non è chiaro neanche quando dip o quando ci sarà una recensione e questo tutto ci porta di nuovo in una situazione dove, come abbiamo visto durante questo anno, una volatilità abbastanza elevata come il nazionario così obbligazionario e anche alcune incertezze che rimane con noi, però ancora ritorno indietro e forse questa è una domanda che tu segui dopo, la correlazione tra azionario e obbligazionario che era molto forte durante 22, forse sarà molto meno visibile e attuale durante l'anno prossimo. Esatto, sicuramente la correlazione, una forte correlazione tra azionario e obbligazionario è stato un aspetto che ha caratterizzato il 2022 e che ha, diciamo così, messo ancora più in difficoltà le strategie di investimento. Effettivamente quindi nel 2023, Peter, questa correlazione, che è un fatto un po' anomalo, potrebbe andarsi a perdere e quindi l'obbligazionario potrebbe trovare effettivamente nuovo vigore? Infatti, proprio così. E quindi se cominciamo di nuovo dalla crescita, rischio di recessione, utili aziendali che possono essere più bassi, il risultato è che azionario e questa correlazione con azionario e obbligazionario potrebbe diminuire. Come siamo ancora nell'ultima fase di rialzi, quindi io aspetterei correlazione più bassa, azionario ovviamente dipende da che parte del mondo investiamo, mentre obbligazionario in generale obbligazionario potrebbe diventare, potrebbe prendere forze di nuovo. Quindi quella grande domanda su obbligazionario sarà duration, ma dobbiamo diventare molto lunghi duration o non così lunghi? Questa è la domanda principale, ancora dipenderà dall'inflazione e dalle banche centrali. Esatto, quindi Peter, andando poi sulle strategie, due domande mi nascono spontanee dalle tue considerazioni. Uno, ok, ma dove saranno le opportunità sull'obbligazionario? C'hai parlato di duration, quindi effettivamente come si modificherà? E secondo, sull'azionario, c'hai parlato di diversificazione, a seconda di dove saremo posizionati? Visto che poi c'è anche questo rischio recessione maggiore in Europa rispetto agli Stati Uniti? Anche qui dovremmo guardare di più e prendere posizione di più sugli Stati Uniti? O come si rifletterà questo possibile diverso andamento economico sulle strategie di investimento? Ecco, io vorrei riferirmi, Valeria, di nuovo a uno dei nostri discussioni, ma sono sicuro che gli altri colleghi del mercato hanno fatto la stessa discussione quando ci siamo visti il primo o secondo trimestre. A questo punto dovevamo ovviamente ridurre duration, soprattutto in mercati al rischio di alta inflazione. Abbiamo visto l'andamento ovviamente dell'obbligazionario anche azionario e anche, mi riferisco ancora a prima metà di questo anno, anche ridurre esposizioni al paese con asset esposti al più alto rischio di rincariche delle materie prime che è ovviamente collegato con l'inflazione. Adesso siamo sei, nove mesi più tardi e dal punto di vista di posizionamento ma anche da valuations dei mercati siamo in una situazione molto diversa. Prima i valuations dal punto di vista obbligazionario sono molto più attraenti e il secondo anche quando guardiamo una duration più lunga si osserva un cuscinetto abbastanza buono. Io sempre guardo e si possono vedere i lunghi bonds in Austria, il mercato obbligazionario, o Israele o qualsiasi altro paese, proprio abbiamo visto un prezzo che è caduto da sopra pari, da sopra 120 è caduto a 40. Quindi abbiamo visto proprio valuations che sono stati smantelati e adesso è l'opportunità, la domanda diventa. L'obbligazionario è già pronto di investire. Ancora mi riferisco per l'ultima volta, quindi non siamo sicuri dell'endamento di inflazione, non siamo sicuri di recessione quando DIP ci sarà, utili aziendali lo lasciamo a parte perché questa è una considerazione più per mercato azionario. Quindi dal punto di vista di obbligazionario noi cominciamo a vedere opportunità, perché valuations si sono aperti, c'è un discreto cuscinetto, e la domanda è, ma dobbiamo andare a 50 anni lungo duration, 50 anni in nominal terms, o ancora consideriamo the middle part of the curve? E quindi dal punto di vista da come base case indicato una politica monetaria in Europa negli Stati Uniti che rimarrà abbastanza restrittiva tra 2023, long end comincia a diventare più interessante come inflazione, anche inflazione comincerà a scendere, le banche centrali alla politica monetaria già comincia a mantenere inflazione sotto controllo. Quindi un active duration management e più extension of duration durante l'anno. Adesso ovviamente possono avere due domande. Ma se fate sicuro che andrà a 5.25 terminal rate? La risposta è sì, questo è the bearish case. In questo caso treasury yields sono troppo bassi al presente. Dobbiamo aprirci ancora 50 basis points. The bullish case, ma più recessione arriverà, che forse sarà più verso la metà dell'anno 2023, più duration diventerà interessante. Quindi in conclusione io direi, stiamo un po' attenti a duration, adesso all'inizio dell'anno a vedere come andrà inflazione, magari vedremo qualche sorpresa to the upside, però cominciamo già a vedere opportunità di aggiungere duration in diversi mercati. Ok, Peter, sono arrivate alcune domande, quindi siamo un po' sul finale, ma mi piacerebbe comunque guardarle insieme. A proposito sempre del obbligazionario e azionario, chiedono, visto il pessimo anno dei fondi bilanciati nel 2022. Il 2023 potrebbe invece essere un'opportunità sui fondi bilanciati? Quindi strategia bilanciata 60-40. Potrebbe essere un'opportunità dopo un anno così come 23, come 22 scusate. 23 potrebbe essere un anno che andiamo verso una posizione più bilanciata, ma da tutti i punti di vista. Poi dobbiamo pensare ovviamente in che mercati prendere più grande esposizione. Esatto. Come ho notato Asia per esempio, Asia in generale, non Cina solo, ma India, altri paesi, vedranno una crescita abbastanza forte. Stati Uniti, anche se vedrà una recessione, sarà una recessione bassa, meno prolungata, più al rischio Europa ovviamente. E quindi Peter ha anche questo ragionamento? Si rifletterà sulle strategie di investimento azionario? Quindi meno Europa, più Stati Uniti? Più Asi, più Stati Uniti, più Asia. Ok. Ok. E dal punto di vista di obbligazionario dipende, adesso se abbiamo tempo di andare in dettagli, tanti paesi emergenti già hanno alzato tassi di interesse abbastanza alte. Vi dico due esempi, Brasile, tassi di interesse 13,75, mentre l'inflazione è caduta sotto 6%, quindi abbiamo un real positive rate sopra 6%. A un punto Brasile comincerà a ridurre tassi di interesse, questo è il momento, già è il momento di cominciare a pensare a entrare nel mercato obbligazionario. India è in simile situazione. Altri paesi non mercati sviluppati ancora cominceranno anche loro a tagliare tassi di interesse. Esatto. Allora, altra domanda per te che riguarda invece il mondo materie prime. Chiedono le materie prime in particolare quelle energetiche e legate alla transizione energetica. Saranno maggiormente legate al tema recessione che incombe nel 2023 oppure al reopening della Cina. Quindi noi siamo un'opinione che soprattutto dobbiamo guardare la crescita in Cina e la crescita in Cina, come ho già menzionato, sarà 4-5%, non è male, però già cominciamo a vedere una crescita che è diretta verso consumption driven e non così investment driven growth. Il risultato è che la domanda delle materie prime dovrebbe essere di meno. Quindi abbiamo una recessione in Europa, quasi recessione in America e crescita in Asia, però meno driven da investment, meno la domanda di energia. Quindi dobbiamo vedere prezzi di energia abbastanza stabile e magari anche più bassi, ovviamente dipendendo anche da cosa fa OPEC e Russia dal punto di vista del loro supply delle materie prime. Chiaro, sarà sicuramente anche qui un discorso in evoluzione dove diverse variabili entreranno in gioco. Va bene Peter, siamo andati anche oltre il nostro tempo a disposizione, quindi io ovviamente ti ringrazio per la tua disponibilità per essere stato con noi oggi. Grazie mille Peter. Grazie Valeria, buon anno a tutti e speriamo per un anno migliore dal punto di vista di investimenti e da tutti i punti di vista familiari e salute. Certo, assolutamente. Speriamo per il meglio, insomma, su tutti i punti di vista. Io ovviamente ringrazio anche voi per averci seguito oggi. Vi ricordo che Weekly Bell tornerà il 9 gennaio, lunedì 9 gennaio 2023. Buone feste a tutti, oltre che ovviamente buona settimana e a prestissimo. Grazie.